Grazie onorevole Presidente, buon pomeriggio a tutti e agli onorevoli componenti della Commissione e grazie anche per questa opportunità che viene offerta al Dipartimento e al Ministero per un esame dal nostro punto di vista, ma soprattutto una descrizione sul Decreto Legge numero 130 del 21 ottobre 2020. Come è noto il provvedimento, il Decreto Legge all'esame del Parlamento rieca per gli aspetti che attengono al Governo dei flussi migratori e più in particolare alle competenze del Dipartimento per le libertà civile e l'immigrazione, significative novità che sostanzialmente attengono alla materia dell'accoglienza dei richiedi di asilo, alla protezione complementare e nonché sul procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Il provvedimento, come è noto, opera innanzitutto una revisione del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, prevedendo che le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee cosiddetti CAS, fermo restando le attività di soccorso e di identificazione svolte nei cosiddetti hotspot. L'accoglienza è assicurata nel limite dei posti disponibili nelle strutture del sistema già denominato SIPROIMI, che contestualmente assume la denominazione di sistema di accoglienza e integrazione, SAI. I richiedenti asilo portatori di specifiche esigenze di vulnerabilità saranno quindi trasferiti nel sistema di accoglienza e integrazione in via prioritaria. Nei centri di prima accoglienza e nei centri straordinari sono previsti servizi aggiuntivi rispetto a quelli attualmente assicurati che comprendono corsi di lingua italiana, assistenza psicologica e orientamento al territorio, i cui contenuti dovranno essere analiticamente definiti nello schema di capitolato di appalto per la gestione dei servizi di accoglienza. Nei medesimi centri sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sentita la conferenza unificata. A tal proposito, all'indomani già della pubblicazione, questo Dipartimento ha avviato i lavori di adeguamento dello schema di capitolato di appalto e per la predisposizione del decreto interministeriale relativa agli standard igienico-sanitari ed abitativi dei centri. A tale proposito ho già adottato due decreti specifici propedeutici a questi due provvedimenti perché riteniamo che questi due decreti, il primo decreto ministeriale e l'altro decreto interministeriale, rappresentano una chiave di volta rispetto all'attuazione complessiva della novella normativa in materia di accoglienza. Il sistema di accoglienza e integrazione SAI, quindi, viene articolato secondo la normativa su due livelli di servizi. Servizi di primo livello, a cui accedono i richiedenti asilo, che comprendono tutti i servizi di norma assicurati nell'ambito dei progetti degli enti locali, con esclusione di quelli relativi all'integrazione. Poi abbiamo i servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, che assicurano anche l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, riservati alle altre categorie di beneficiari dell'accoglienza. L'accesso al SAI viene poi esteso, oltre che ai richiedenti di protezione internazionale, ai titolari di permesso per protezione speciale, nonché ai titolari di permesso per i casi speciali che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 1,9 del decreto legge 113. Si tratta sostanzialmente dei richiedenti a cui, nella fase di transizione, è stato rilasciato un permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario sulla base dei presupposti previsti dalla legislazione antecedente. Viene confermata poi la possibilità che l'accesso al sistema di accoglienza e integrazione, qualora i predetti non accedono a sistemi di protezione specificamente dedicati, e che per i titolari di permesso di soggiorno per protezione sociale, per violenza domestica, per calamità e per atti di particolare valore civile. Anche in riferimento alla legge, all'articolo 13 della legge 47 del 2017, la cosiddetta legge Zampa, si consente l'accoglienza dei neomaggiorenni per il periodo in cui l'autorità giudiziaria minorile ne autorizza la permanenza in Italia e comunque non oltre il ventunesimo anno di età. Nella nota con cui l'Onorevole Presidente faceva riferimento alla mia audizione, venivano anche richiesti una serie di dati che, come è noto, oltre a questo intervento, sarà mia cura poi inviare la scheda con tutti gli allegati, ma che qui voglio rendere edotta la Commissione. Cioè i dati sui centri di accoglienza, con riferimento al numero di immigrati in accoglienza per la tipologia di centro, rappresento che alla data del 30 ottobre sono presenti complessivamente 80.688 cittadini stranieri in accoglienza nel territorio nazionale, di cui 173 presso gli hotspot e 55.464 nei centri di prima accoglienza e 25.051 presso le strutture Siproimi. Anche alla data del 30 ottobre del 2018 risultavano attive 15 strutture di accoglienza e 9.025 strutture di accoglienza straordinaria. Alla data del 30 ottobre del 2019 10 di accoglienza e 5.953 di strutture di accoglienza temporanei i CAS, mentre, ultimo dato, al 30 ottobre 2020 9 strutture di accoglienza e 4.824 CAS. La questione relativa poi ai dati che il Dipartimento deve fornire complessivamente sui dati attraverso la pubblicazione presenti nel sistema SGA per ogni singolo centro e con frequenza mensile, desidero evidenziare, come già rappresentato in occasione dell'interrogazione risposta immediata presentata dal Presidente Brescia ed altri in data 29 settembre, che i dati contenuti all'interno del sistema, con riferimento ai centri di accoglienza, non risultano spesso sufficientemente consolidati per procedere alla pubblicazione. Ma su questo punto io vorrei fare, ho fornito già a disposizione, impartito a disposizione al Dipartimento e vediamo di venire incontro a questa esigenza, che nel frattempo che vengono consolidati i dati ai fini della relazione annuale al Parlamento sul sistema di accoglienza, come per esempio quella che noi già da tempo abbiamo predisposto per il 2019 e che a breve sarà trasmessa e che questo lasso di tempo, purtroppo, deriva da una serie di adempimenti che per legge devono essere fatti e cioè che al momento la relazione è all'attenzione del Ministro dell'Economia per il coordinamento richiesto dalla legge prima della trasmissione al Parlamento. Ma dicevo, per venire incontro proprio all'esigenza di consolidare alcuni dati per step durante l'anno, noi stiamo valutando la possibilità di una pubblicazione quadrimenestrale per il prossimo anno, dei dati relativi ai centri attivi e al numero dei cittadini stranieri in accoglienza. Questo cioè anticipa poi sostanzialmente i dati complessivi che vengono forniti per l'intero anno. Devo dire la verità che fino ad ora è stata registrata dalle prefetture una criticità che noi dobbiamo comunque rilevare, passando ad altro tema, e cioè che la scarsa partecipazione alle gare per le individuazioni di strutture di accoglienza, talvolta spesso che vanno deserte, provano conseguenti gravi problemi di carenza di posti di accoglienza. Quindi viene auspicato che anche alla luce delle nuove disposizioni, tutto ciò possa subire una inversione di tendenza. Mentre per quello che concerne il nuovo sistema SAI, nel quale i posti si stanno molto riducendo a seguito dell'accoglienza di emigranti recentemente sbarcati, compresi i posti per minori non accompagnati, potranno essere indetti nuovi avvisi per l'abbiamento della rete di accoglienza a condizioni che vengono assicurate le corrispondenti maggiore risorse finanziarie. Per quanto concerne invece i minori non accompagnati, il provvedimento contiene alcune disposizioni a tutela della minoretà, come l'espressa conclusione, esclusione dalle procedure accelerate innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la possibilità per le stesse commissioni territoriali di segnalare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori, l'esistenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore emersi nel corso del colloquio al fine dell'attivazione delle misure di assistenza. Voglio altresì assicurare sull'attuazione della legge Zampa che lo schema di DPCM recante le modalità di svolgimento del colloquio con il minore straniero non accompagnato, accolto nelle strutture di prima accoglienza che più direttamente attiene alle competenze del Dipartimento per le libertà civile e l'immigrazione, è stato predisposto all'esito di un proficuo confronto che ha coinvolto le altre amministrazioni che hanno una specifica competenza in materia, l'autorità garante per l'invanza e l'autolescenza, nonché le principali organizzazioni che operano nel settore della tutela dei diritti dei minori come Save the Children, UNHCR, UNICEF, OIM e Caritas. Su tale testo sarà acquisito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere del Consiglio di Stato. Il DPR di adeguamento della disciplina dei permessi di soggiorno da rilasciare ai minori stranieri non accompagnati e ai neomaggiorenni è all'attenzione del Ministero dell'Economia per il necessario concerto ai fini dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri. Lo schema di regolamento che riordina le competenze del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia dei minori stranieri non accompagnati è attualmente all'esame del Consiglio di Stato. Infine, sull'adozione del protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati è stato già sancito l'accordo nell'ambito della conferenza unificata tra il Governo, le regioni e le autonomie locali. Voglio anche segnalare a proposito di minori che a breve sarà pubblicato un avviso pubblico da parte di questo Dipartimento finalizzato alla realizzazione di progetti a valere sulle risorse fami volte a sostenere il processo di inclusione sociale e autonomia dei minori stranieri non accompagnati promuovendo l'istituto dell'affidamento familiare. È una novità di notevole portata. Quanto alla presenza dei minori in accoglienza alla data del 2 novembre 2020, i minori stranieri non accompagnati accorti presso le strutture gestite o finanziate dal Ministero dell'Interno sono di 3.598 e c'è una tabella allegata alla relazione. Per quanto invece riguarda il tema della capienza nei CPR e del numero dei migranti trattenuti, posso dire che alla data del 30 ottobre 2020 abbiamo i seguenti dati, cioè che rispetto ai dieci centri istituiti sono al momento attivi di 7 centri perché sui restanti 3 si stanno eseguendo alcuni lavori con una capienza teorica di una capienza effettiva di circa 600 posti e ad oggi ci sono circa 400 migranti trattenuti, la liquida che viene riservata qui al Dipartimento PS che gestisce un po' questi numeri in relazione agli afflussi di migranti di cui in questo momento siamo circondati e tra questi abbiamo anche otto donne. Con riguardo poi ai cittadini stranieri trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio, il decreto prevede la possibilità per i destinatari della misura privativa di presentare istanze o reclami al Garante Nazionale per le persone private della libertà personale che accertata la fondatezza del reclamo, formula specifica e raccomandazione all'amministrazione. Il premio rappresentare a tal proposito che l'interlocuzione del Dipartimento per la libertà civile e l'immigrazione con il Garante è costante, proficuo, attento sulle condizioni di trattenimento dei cittadini stranieri nei CPR. L'altra novità, come è nota, riguarda il profilo dell'effettività delle espulsioni e a tal proposito il provvedimento normativo nell'ambito di una riduzione del tempo massimo di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio da 180 giorni a 90, prorogabili di ulteriori anni 30, stabilisce che la misura del trattenimento che è strumentale all'esecuzione dell'espulsione è disposta con priorità per coloro che costituiscono una minaccia per l'ordine della sicurezza pubblica, nonché per coloro che provengono da un Paese con il quale sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio. Per quanto concerne invece il numero dei rimpati volontari assistiti, nel 2019 sono stati effettuati 383, nel 2020 probabilmente avremmo avuto anche un numero superiore, se non che il sistema pandemico non ha consentito un'accelerazione in tal senso. Tuttavia noi abbiamo attivato sei progetti di rimpatrio volontario assistito a messa a finanziamento con fondi fami e tali progetti, che hanno iniziato le attività nel mese di marzo del 2019, prevengono di realizzare complessivamente 1.810 rimpatri in un arco temporale triennale. E come dicevo prima, bisogna tenere presente che la diffusione della pandemia di Covid-19 a livello internazionale ha avuto indiscutibili ripercussioni sull'attuazione della misura del rimpatrio volontario assistito in Italia. Tant'è che nel corso della pandemia i progetti hanno incontrato notevo difficoltà, non solo nella prosecuzione delle attività legate al rientro dei migranti nel paese di origine, ma anche di quelle connesse all'attuazione e al monitoraggio dei piani di reintegrazione nei paesi di origine, con conseguenti scostamenti e ritardi rispetto a quanto previsto. L'intero contesto poi normativo che riguardano le disposizioni in materia di protezione complementare, è una novità di ampia portata che riporta il decreto legge. Voglio fare soltanto qualche piccolo cenno perché so già che la Presidente della Commissione nazionale è stata già aulita e allora voglio soltanto rimarcare che il decreto legge estende il divieto di espulsione già previsto dal decreto unico in materia di immigrazione al caso in cui si uscita il rischio per lo straniero di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatio nel paese di origine, nonché al caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporta la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto dell'effettività dei vingoli familiari dell'interessato, dell'inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali nel paese di origine. Si tratta nel primo caso di una specifica declinazione nell'ambito delle cause ostative all'espulsione del principio dell'articolo 3 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo, CEDU, che già trovava riconoscimento nel citato testo unico che vieta l'espulsione e con la novella legislativa, quindi, il divieto di espulsione già previsto diventa anche formalmente speculare rispetto all'articolo 3 della CEDU. Anche il secondo caso che ho esemplificato costituisce applicazione di un principio dell'ACEDU, articolo 8, e in questo caso, infatti, il divieto di espulsione non è interrogabile, ma trova un limite nelle ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica. In questi casi è rilasciato allo straniero un permesso per protezione speciale, i cui presupposti sono esaminati dalle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o nell'ambito delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, quando non è accolta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato di protezione sussidiaria, oppure richiesta del questore quando lo straniero, non richiedendo di asilo, abbia presentato una domanda di permesso ad altro titolo. Il permesso di soggiorno per protezione speciale diventa quindi biennale e convertibile il permesso di soggiorno per lavoro, salvo che sussistano motivi di ordine e sicurezza pubblica, di sicurezza nazionale che hanno determinato il deniego o l'esclusione della protezione internazionale. In questo contesto, preme rimarcare il ruolo fondamentale che hanno le commissioni territoriali, che con questa novella è ulteriormente valorizzato questo compito nella direzione della tutela dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni europee e internazionali, con l'attribuzione della facoltà, in caso di rigetto della domanda di protezione, di trasmettere gli atti al questore per rilascio del permesso per cure mediche, ricorrendo nei presupposti che vengono ancorati a gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie. In questo caso, la commissione informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza, quando nel corso del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale possano emergere gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di un minore che richiedono la permanenza del genitore o dell'affidatario nel territorio nazionale. Ora, è evidente che nell'ottica di agevolare l'integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, non posso non evidenziare che il decreto legge ha previsto la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro alcuni permessi fino ad oggi non convertibili, seppure in alcuni casi già abilitanti allo svolgimento di attività lavorativa. Si tratta del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui si è già detto, del permesso per calamità, per residenza elettiva, per acquisto dalla cittadinanza o dello status diapolide, per attività sportiva e per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, nonché del permesso di assistenza minori che ho già richiamato. E sempre sul piano dell'integrazione si prevede da un lato il coinvolgimento dei richiedenti di asilo nelle attività di utilità sociale attraverso i progetti a tal fine predisposti dagli enti territoriali e dall'altro la possibilità di avviare alla scadenza del periodo di accoglienza ulteriori percorsi di integrazione per i beneficiari delle misure di accoglienza del SAI nell'ambito delle risorse disponibili secondo linee di intervento individuate dal Piano Nazionale per l'Integrazione sulla base di proposte formulate dal Tavolo di Coordinamento Nazionale insediato presso il Ministero dell'Interno e che il Ministro ha convocato qualche settimana fa. A tale riguardo sottolineo che nel quadro del Piano Nazionale delle misure volte a favorire l'indegrazione dei beneficiari di protezione nazionale sono stati finanziati dal Ministero dell'Interno in quanto autorità responsabile dei fondi europei FAMI nell'ambito della programmazione 2014-2020, numerosi progetti rivolti all'indegrazione, all'inclusione sociale ed all'autonomia abitativa ed occupazionale dei titolari di protezione internazionale. Continuità d'azione sarà assicurata anche nell'ambito della programmazione fondi FAMI 2021-2027, i cui negoziati sono in corso e desidero sottolineare a tal proposito anche le importanti iniziative che il Ministero dell'Interno ha realizzato con fondi nazionali come la concessione di borse di studio in favore di titolare di protezione internazionale grazie ad una convenzione che abbiamo stipulato con la conferenza dei rettori universitari. Concludo questo mio intervento sottolineando che le misure di semplificazione organizzative messe in atto al Dipartimento hanno determinato una costante riduzione dei tempi di trattazione delle istanze di concessione della cittadinanza, consentendo con il presente decreto legge la riduzione da 48 a 36 mesi del termine di conclusione dei procedimenti. Grazie e se vi sono i chiarimenti sono disponibili.